Ancora una fumata nera nella scelta dell'area destinata ad ospitare il futuro ospedale di Piacenza. Il tavolo tecnico-politico di ieri si è concluso con un nulla di fatto, con la maggioranza ancora indecisa e l'opposizione arroccata sulle sue posizioni e senza fornire quell'indicazione fondamentale sul terreno più idoneo. Un tavolo, secondo le minoranze, non legittimato alla scelta. Il consigliere Massimo Trespidi, a nome di tutte le minoranze, è intervenuto sostenendo che non esiste alcun atto formale che costituisca questo organismo e mancano i verbali con gli interventi. Tra l'altro, ha proseguito Trespidi, dal maggio 2018 al marzo 2019 questo tavolo non è mai stato convocato dal sindaco. Un letargo durante il quale è stato firmato un protocollo di intesa con Regione e OSL, ha proseguito il rappresentante di Liberi, senza che il Consiglio Comunale o lo stesso tavolo fossero informati o le opposizioni interpellate. La decisione dunque slitta domani, quando toccherà alla Giunta assumersi la responsabilità di identificare il sito dove realizzare l'opera e adottare la delibera ricognitiva da portare in Consiglio Comunale il 26 luglio. Abbiamo le idee chiare e andiamo avanti comunque, ha assicurato sindaco Patrizia Barbieri al termine dell'incontro. Una scelta che nonostante i malumori vede ancora in pole position la cosiddetta area farnesiana 6 e che non cadrà probabilmente sui terreni limitrofi alla besurica per i quali ieri sono state consegnate in comune 782 firme relative a una petizione e raccolte da un comitato spontaneo per dire no al nuovo ospedale in quelle aree, che secondo il comitato stesso porterebbe a un incremento di traffico e di inquinamento non sostenibili. Nel pomeriggio di oggi il centrodestra con un comunicato ha preso posizione nei confronti della minoranza definendo un teatrino pretestuoso le dichiarazioni espresse ieri e aggiungendo se si fossero trovati loro a dover decidere l'ospedale non si sarebbe mai fatto.